signori buongiorno e bentornati sul canale del master k e io sono il master k e il vostro ospite su questo canale negli ultimi video dell'arte del masteraggio abbiamo parlato di come ogni png abbia un suo punto di vista e come questo punto di vista vada a influenzare non solo la sua visione del mondo ma anche i suoi rapporti e le informazioni che fornisce ai personaggi giocanti di tutte le possibili visioni del mondo però ce ne sarà una che sicuramente avrà un impatto sui giocatori e sui loro personaggi molto superiore rispetto a quella di tutte le altre cioè la visione del mondo che ha l'antagonista principale della storia dato che si parte sempre dal presupposto che siano i personaggi giocanti a essere i protagonisti della storia molto spesso ci si dimentica che anche gli antagonisti cioè i personaggi che a loro si oppongono dovrebbero avere delle loro motivazioni perché agiscano nel modo in cui agiscono e ovviamente un punto di vista personale su quello che sta succedendo all'interno della trama ne avevamo già parlato in un vecchio video ve lo lascio linkato qua sopra ma questa settimana andiamo a vedere in particolare cosa questo voglia dire per l'antagonista della campagna quando si dice che ognuno è l'eroe della propria storia ci si riferisce proprio a questo ogni personaggio indipendentemente da quale sia la la sua posizione ideologica riterrà di essere nel giusto e di essere legittimato e che chiunque si opponga a lui per definizione sia il cattivo questo vale sia per i personaggi giocanti che piri e png non è sicuramente necessario che la storia abbia un antagonista fisico vero e proprio i personaggi giocanti potrebbero opporsi a una situazione una condizione un disastro naturale una circostanza avversa che non abbia una rappresentazione personale all'interno del mondo di gioco però molto spesso la presenza di un cattivo in carne e ossa rende la vicenda molto più appassionante per i giocatori è molto difficile prendere sul personale che un asteroide sta per schiantarsi su una città e distruggerla ma diventa molto facile farla diventare una questione personale quando si scopre che è stato il malvagio generale alieno a lanciare quell'asteroide un antagonista in carne e ossa dà anche la possibilità al master di andare a intromettersi nei piani dei giocatori per contrastarli in maniera più efficace una volta che i giocatori hanno trovato la soluzione e capito come si può deviare l'asteroide per impedirgli di distruggere la città tecnicamente eseguire il piano oramai una formalità l'asteroide non potrà fare nulla per evitare che i personaggi portino a termine il piano potrebbero esserci dei contrattempi però quei contrattempi potrebbero anche essere presi in male dai giocatori perché visti più che altro come un tentativo del master di allungare il brodo tanto oramai sanno già come la storia va a finire se dietro al lancio dell'asteroide però c'è il malvagio generale alieno risulterà molto più verosimile nella storia che una volta che il malvagio generale alieno ha scoperto che i personaggi giocanti vogliono impedire al suo asteroide di distruggere la città si attivi e vada a ostacolare direttamente le azioni dei giocatori senza che questa sembra una forzatura il miglior antagonista è quello che i giocatori amano odiare qualcuno che si contrapponga a loro anche dal punto di vista ideologico e che possa andarli a pungere sul vivo magari a un livello paritario se non superiore di moralità affinché questo funzioni però l'antagonista deve essere credibile nelle sue motivazioni un cattivo che faccia il cattivo perché gli piace essere cattivo non è sicuramente un personaggio interessante nella maggior parte dei casi sembrerà un cartone animato sembrerà ridicolo nel peggiore dei casi sembrerà più che altro patetico un antagonista che si rispetti ha una valida motivazione per fare quello che fa e come abbiamo detto si ritiene perfettamente legittimato a farlo ritiene di avere ragione a fare quello che fa e che siano i personaggi che gli si oppongono a essere in errore partite da questo presupposto quando scrivete l'antagonista della vostra quest o anche l'antagonista della vostra intera campagna più importante ancora è che le motivazioni dell'antagonista debbano sempre essere presentate in qualche modo ai giocatori ai loro personaggi possibilmente da vari punti di vista tra cui anche quello è l'antagonista stesso in modo che per i giocatori sia chiaro quali siano le sue motivazioni e sappiano perché si comporta nel modo in cui si comporta badate bene che questo non vuol dire che il cattivo debba necessariamente avere ragione potrebbe semplicemente sbagliarsi o comunque avere dei motivi personali per ritenere le sue motivazioni valide quando in realtà non lo sono il maniaco religioso che lancia una crociata per invadere distruggere l'altro regno perché questo è quello che gli dicono le voci nella sua testa sicuramente non sta seguendo una linea d'azione razionale né tantomeno è giustificato nel fare quello che fa però sembrerà perfettamente razionale che lui si comporti in quella maniera non appena i giocatori capiranno con che tipo di personaggio hanno a che fare anzi potenzialmente il fatto che un nemico sia irrazionale potrebbe renderlo ancora più pericoloso agli occhi dei giocatori con un nemico ragionevole razionale si potrebbe scendere a patti col pazzo che sente le voci no ovviamente sta a voi come master inserire all'interno della storia degli elementi e delle scene che permettano ai giocatori di avere le informazioni che gli servono sul loro antagonista potrebbero nel nostro caso trovare dei sopravvissuti all'invasione che raccontano di come l'esercito dell'antagonista sia fatto da maniaci religiosi potrebbero magari catturare uno dei soldati di questo esercito e sentire direttamente la propaganda religiosa che questi vanno in giro a raccontare magari potrebbero avere della possibilità di fare delle ricerche e vedere che questo tizio in realtà non era neanche tanto stabile all'inizio quindi è molto probabile che sia impazzito del tutto se ve lo state chiedendo è proprio dato dalla necessità di inserire in un qualche momento nel racconto la motivazione dell'antagonista che ha fatto nascere il cliché del cattivo che cattura i buoni e invece di ucciderli comincia a fare un monologo in cui spiega il suo piano sì effettivamente quella scena ha un senso voi però non fatela diciamo che questo video lo finiamo qua prima che si trasformi in un rant la settimana prossima ritorna la rubrica dello scrivere una quest quindi se non avete ancora recuperato i vecchi video andatele a recuperare settimana prossima vedremo quali sono state le scelte come sempre se avete domande dubbio perplessità scrivete in un commento qui sotto e scrivetemi anche come voi fate a fare le motivazioni del vostro cattivo e come fate a comunicarle al party se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che è venuto a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche io sono il master kai noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao